no caro andrea anche nella mia attuale condizione mi sento di orientarvi un poco su tutto ciò che interessa questa professione di scienziato cui vi siete legato per l'esistenza nel tempo che ho libero e ne ho di tempo libero mi è avvenuto di rimeditare il mio caso e di domandarmi come dovrà giudicarlo quel mondo della scienza al quale non credo più di appartenere anche un venditore di lana per quanto abile sia ad acquistarlo a buon prezzo per poi rivenderla cara deve preoccuparsi che il commercio della lana possa svolgersi senza difficoltà non credo che la pratica della scienza possa andar disgiunta dal coraggio essa tratta il sapere che è un prodotto del dubbio e col procacciare sapere a tutti su ogni cosa tende a destare il dubbio in tutti ora la gran parte della popolazione è tenuta dai suoi principi dai suoi proprietari di terre dai suoi preti in una nebbia madreperlacea di superstizioni e di antiche sentenze che occulta le malefatte di costoro antica come le rocce e la condizione dei più e dall'alto dei pulpiti e delle cattedre si soleva dipingerla come non meno infrangibile ma la nostra nuova arte del pubblico appassionò il gran pubblico che corse a strapparci di mano il telescopio per puntarlo sui suoi aguzzini cotesti uomini egoisti e prepotenti avidi predatori a proprio vantaggio dei frutti della scienza si avvidero subito che un freddo occhio scientifico si era apposato su una miseria millenaria ma artificiale una miseria che chiaramente poteva essere eliminata con l'eliminare loro stessi e allora sommersero noi sotto un profluvio di milacce e di corruzioni tali da travolgere gli spiriti deboli ma possiamo noi respingere la massa e conservarci uomini di scienza i moti dei corpi celesti ci sono divenuti più chiari ma i moti dei potenti restano pur sempre imperscrutabili ai popoli e se il dubbio ha vinto la battaglia per la misurabilità dei cieli la battaglia della massaia romana per la sua bottiglia di latte sarà sempre perduta dalla credulità con tutte e due queste battaglie Andrea ha a che fare la scienza finché l'umanità continuerà a brancolare nella sua nebbia millenaria di superstizioni e di venerande sentenze finché sarà troppo ignorante per sviluppare le sue proprie energie non sarà nemmeno capace di sviluppare le energie della natura che le vengono svelate che scopo si prefigge il vostro lavoro non credo che la scienza possa proporsi altro scopo che quello di alleviare la fatica dell'esistenza umana se gli uomini di scienza non reagiscono all'intimidazione dei potenti egoisti e si limitano ad accumulare sapere per sapere la scienza può rimanere fiaccata per sempre e ogni nuova macchina non sarà che fonte di nuovi triboli per l'uomo e quando con l'andar del tempo avrete scoperto tutto lo scopribile il vostro progresso non sarà che un progressivo allontanamento dall'umanità tra voi e l'umanità si scaverà un abisso così grande che ad ogni vostro eureka risponderà un grido di dolore universale nella mia vita di scienziato ho avuto una fortuna senza pari quella di vedere l'astronomia dilagare nelle pubbliche piazze in circostanze così straordinarie la fermezza di un uomo poteva produrre grandissimi rivolgimenti se io avessi resistito i naturalisti avrebbero potuto sviluppare qualcosa di simile a ciò che per i medici è il giuramento di ipocrate il voto solenne di far uso della scienza ad esclusivo vantaggio dell'umanità così stando le cose il massimo in cui si può sperare è una progenie di gnomi inventivi pronti a farsi assoldare per qualsiasi scopo ma sono anche convinto andrea di non aver mai corso dei gravi rischi per alcuni anni ebbi la stessa forza di una pubblica autorità mise la mia sapienza a disposizione dei potenti perché la usassero o non la usassero o ne abusassero a seconda dei loro fini ho tradito la mia professione e quando l'uomo ha fatto ciò che ho fatto io la sua presenza non può essere tollerata nei ranghi della scienza la mia professione è la sua